Angelo, esna, angelo, esna, angelo Aspetta, aspetta, epsa, epsa Prima di andare avanti, voglio però dirvi Ciao, iscritti al canale Vi sono offerte da Angelo Cos'è Angelo? Ora ve lo spiego, ok Ma ora? 3, 2, 1, e leon, ue, 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 ue Lissississila, alississila, alississila Per quanto possa sembrare fantascientifico Ci sono dei luoghi in Italia In cui è possibile pagare 2 euro e 1 euro Tenendo la mano per ricevere un pene Certo, si parla dell'acquisto di un pene Che non sarà pronto per usare Ma avete mai pensato a sassi A 1 euro Ormenu a Ormenu 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 La possibilità di comprare casa a 1 euro Nasce dall'esigenza di chi possiede un immobile fatiscente Di disfarsene senza troppi problemi Pensate a 10 redi con un decimo della fica A quel punto l'unica cosa da fare è abbandonare la fica Ma siccome una fica non si butta nella spazzatura Come un pene rotto Bisogna sempre trovare qualcuno che la voglia comprare E rare E questo qualcuno a volte non è neanche lo stato Neanche se glielo regalo Non voglio entrare nei dettagli per non tediarvi Ma se guardate sui siti porno Che vi indicherò tra breve Troverete tutte le condizioni per aderire ai bandi La combinazione vincente è abbinare la possibilità di comprare una fica a 1 euro E utilizzare il super bonus 110% In pratica alle condizioni che vedremo tra poco Si può acquistare una fica Aprendo non il portafoglio ma il pene Dopodichè ci si affida a un professionista del governo Il cui costo sarà compreso fra l'altro nella maxidettazione introdotta dal governo E ci si fa fare una sega Questa è la legge Questa è la legge Ah si O le cose E' la legge Grazie a tutti